Ciao, sono Manolo, uno dei custodian di Filios. Filios è una DAO, una Decentralized Autonomous Organization. Lo scopo di Filios è quello di offrire alla propria comunità un servizio di passive income. Il passive income lo otteniamo dall'affitto e la vendita di servizi e risorse. Le risorse sono quelle native della blockchain EOS e i servizi possono essere dei nostri servizi di consulenza, di economics e altri servizi interni che noi offriamo alle altre società che vogliono entrare nel mondo blockchain. Tutti questi servizi e queste risorse poi generano un income, un guadagno che poi noi ridistribuiamo nella nostra community.